Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio fare un video in cui parlo di un argomento che mi premeva spiegarvi e appunto argomento che mi premeva soprattutto portare sul canale ed era già un po' di tempo che ci giravo intorno. Si parla di un argomento un po' particolare che capita a tutti i canali del mondo qualsiasi sia il tema che trattano e soprattutto ai nuovi arrivati e questo vi dirò dopo, delle critiche costruttive sotto i video. Sono critiche costruttive che nel 90% dei casi sono davvero critiche costruttive perché io ti posso dire mi piace il modo come fai video però quella mano che ti balla mentre fai le riprese un si può vedere. Te lo dico, mi piace tutto però mettila a modo perché insomma per diviso le fai sentir male alla gente. Quello è un commento costruttivo. Un commento invece costruttivo che è argomento di questo video velato da commento costruttivo ma sotto è una cosa, una trollata magari di un ether o meno, comunque sicuramente è tutto forché un commento costruttivo è quello che ti potrei dire mi piacciono i tuoi video, li seguo sempre però la telecamera che usi fa cagare te non sei buona a parlare dovresti fare un pochino più di esperienza in questo campo e poi tornare come fai a dirmi? Seguo i tuoi video con piacere e poi, cioè mi hai detto che faccio schifo in tutto quello che faccio però mi segui con piacere quando una cosa fa schifo completamente o c'è il gusto dell'orrido e non ci credo o non puoi seguire una persona ci sono a me youtuber che non riesco a seguire perché quello che fanno non mi piace come si pongono e tutto non mi sognerei mai di andargli a scrivere e ti seguo però fai schifo in tutto il resto ed è quello di cui volevo parlare oggi è già capitato qualche volta che mi vengono lasciati commenti costruttivi sotto i video che poi si va a vedere sono commenti negativi ma non negativi, offensivi negativi nel senso che mi fanno vedere tutti gli errori che ho fatto sia anche a volte anche dagli editori per l'amor di Dio ed io li ho sempre risposto per l'amor di Dio tutto quanto quando sono offese belle e buone tutto blocco e banno perché siamo su Youtube ma io come dico sempre questo dove siete ora è il mio canale ora ovvio devo seguire le regole di Youtube ma queste sono le regole del mio canale quindi se non voglio che tu mi flammi e mi offenda sotto i video ti banno non c'è problema sei a casa mia in questo momento quindi questa è una cosa normale poi ognuno per l'amor di Dio prende le precauzioni che vuole sempre restando nelle regole imposte giustamente dalla piattaforma e tante volte è venuta fuori questa cosa dei due argomenti che vi vado a parlare la prima che io ringrazio troppo gli editori ora non vi voglio fare un montaggio e tutto quanto tanto vi basta aprire qualsiasi mio video e nel primo minuto barra due ma di solito nel primo minuto ringrazio l'editore per avermi offerto una copia del gioco e questa cosa a volte l'ho vista anch'io che può risultare un po' zelante ragazzi sono prima di tutto anch'io uno che guarda i video prima ancora di farli e può capitare questa cosa che possa risultare un po' zelante o che sono lì troppo che mi prono che ringrazio una cosa un'altra però alla fin fine come quando trattavo videogiochi ci mandavano magari a casa una collector di un gioco una cosa del genere ti dice vabbè all'editore magari non gli costa niente o comunque gli costa poco però vorrei ringraziare io vedo video senza fare nomi né niente perché ognuno a casa sua fa cosa le pare sacro santo diritto questa è la vera libertà però vedo recensori italiani o stranieri che grazie Asmode per il pacco che mi ha mandato oppure non lo so ringrazio cranio cioè un secondo e mezzo di parola o chi magari nemmeno le ringrazia e mette una cosa in descrizione non è una critica va bene ragazzi ognuno a casa sua fa cosa le pare uno potrebbe anche dire andate a quel paese all'editorio ognuno fa quello che vuole ci mancherebbe a te e te non sei nessuno né tantomeno io per criticare perché non sei in casa tua in quel momento lì non è la standa youtube la casa degli italiani dove tutto è possibile no non funziona così ogni canale ha le sue regole e merita che siano seguite io voglio ringraziare gli editori per come tratta me perché ho i miei vari motivi uno perché sono magari uno degli ultimi arrivati in questo campo non l'ultimo ma uno degli ultimi e mi hanno dato fiducia non conoscendomi quindi mi hanno mandato roba a casa da 100, 200, 300 euro fidandosi di uno che non conoscevano grazie eh no io questa gente li ringrazio mi è arrivato Deep Madness qui dietro che vedete gioco base più le varie espansioni kickstarter da orte 200 euro ringrazio la Dimension Games per avermelo mandato ciao ragazzi al prossimo video no io mi ci metto un ginocchio e le faccio vedere tutte e le mostro per bene grazie a Dimension Games vi voglio bene per avermele mandato ragazzi ma loro anche se ci vanno a spendere poco perché sono gli editori ma erano forzati a mandarmelo alla stampa potevano anche dirmi ti do un codice sconto come ha fatto qualcuno sacro santo che qualche altro editore mi ha detto io gioco in te li mando però magari può capitare che ti faccia un bello sconto quindi lo compri dallo shop e ti faccio uno sconto del 30, 40, 50% la Dimension Games che mi manda un kickstarter con tutto il coso io per come mi hanno trattato soprattutto anche Byron con cui ho modo sempre di parlare che mi tratta oh my friend ci siamo mai visti né sentiti my friend mi chiama io mi cinchino per terra e faccio anzi mi metto i capelli a samurai e faccio la cerimonia del te cioè sono cose secondo me che tante persone a volte non si rendano conto mia moglie che ride dietro tante persone non si rendano conto del culo rotto che ci sa perché un editore che non ha nessun contratto con noi occhio ci potrebbe essere che un domani si sveglia e fa Coridan te ne vai a fare a quel paese io non ti mando più niente perché mi stai antipatico non mi garba come fai video te quell'editore lì l'hai perso quindi non sono leccati di culo perché le leccate di culo sono cose che non sopporto nemmeno io però ti mandano giochi a volte da come Massive Darkness da 100-120 euro Kickstarter completi glielo vuoi fare un bel ringraziamento almeno a inizio video o no poi ragazzi a me mi potete dire stronzo mi potete dire quello che vi pare a voi mi potete anche dire una persona che guarda soltanto un casa sua per l'amor di dio è vero ma non vi potete dire leccaculo perché io in questi anni di youtube se sono arrivato a 90.000 iscritti che ora poi li sfrutto male però io avevo delle collaborazioni immense gente che oggi ci hanno un milione due milioni di iscritti e anche 500.000 visual a video per non leccare il culo mi sono levato dalle scatele e non li ho seguiti a quest'ora ci potevo fare tanti soldini con il mio canale youtube ma non me ne è fregato niente tanto è vero che ho anche lasciato il vecchio argomento che mi portava 10 volte più visual per iniziare la mia vera e propria passione che sono i giochi da tavolo però vabbè questo comunque è un discorso satellite a parte che non mi interessa nemmeno trattare perché ho avuto tanti problemi in passato e non mi interessa ritirarli fuori quindi il leccacurismo proprio non mi riguarda per quanto riguarda ringraziare gli editori ovvio ci sono anche c'è anche maniera e maniera per ringraziarli anche a me sono d'accordo con chi me l'ha detto come vedete anch'io do ragione a volte a commenti quelli veramente costruttivi che se vedo uno che per ringraziare il video dura 10 minuti e in 10 minuti 5 minuti e mezzo sta sempre a ringraziare l'editore e li faccio si ho capito ma ti devi farmi il video sul gioco cioè basta hai capito che l'editore li vuoi bene ti tratta bene però un po' e stanno sempre a parlare cioè hai fatto due palle così cosa che non capita se li ringrazio nei primi 30-40 secondi di video su video che non faccio nemmeno corti ma di 40 minuti ciascuno insomma si capisce bene che lo faccio perché veramente ci tengo e poi un'altra cosa che voglio dire e poi qui si va all'argomento successivo quelle delle critiche costruttive velate che poi non lo sono sono trollate e flame io con gli editori cerco anche di avere un rapporto di amicizia ma no amicizia leccaculismo amicizia amicizia perché è troppo facile nella vita prendere e allungare la mano oh grazie prendere e allungare la mano di là oh grandissimo grazie e finisce lì il grazie grazie si dice anche Levorno li porta via il vento i discorsi li porta via il vento capito e magari chi prende e poi magari li sputtana perché quando te ricevi un gioco o qualcosa del genere a me piace che l'editore si fidi di me si fidi di me perché non perché sono bello brutto o geniale o faccio schifo no perché devi vedere che sono una persona professionale di cui ci si può fidare e la fiducia una volta persa non la riprendi più come si può i soldi vanno e vengono quello che vi pare a voi la fiducia e l'orgoglio non te lo ridà più nessuno quindi cerco di avere un rapporto io con alcuni editori no che uno dirà ma questo è pazzo questo è scemo questo è un lega culo io con alcuni editori gli ho fatto dei regali io all'editori cioè editori che guadagnano tanti bei soldini in Italia che comunque lavorano bene ci mandano i giochi io ho fatto dei regali a loro cioè senza fare nomi né niente perché poi ovviamente non voglio fare discorsi e mettere comunque è capitato che proprio io ho fatto un regalo di qualche bel soldino a un editore e l'editore ci è rimasto male mi ha fatto ma che fai e io oh ma hai mandato 3-4 giochi volevo farti un regalo anch'io e l'editore giustamente mi risponde e mi fa sì ma occhio Coridan questo è il mio lavoro anche perché tanti editori mi chiamano Andrea manco Coridan comunque mi hanno fatto Andrea ma questo è il nostro lavoro io ti mando questa roba perché il mio lavoro mandartela no come contatto PR e il tuo lavoro è ricensirmela alla fine non è che t'ho fatto un favore perché te sei mio amico e l'ho detto sì ma a me non mi interessa l'hai sempre fatto bene perché nella vita c'è chi fa il suo lavoro e chi lo fa bene quindi con quello che lo fanno bene mi fanno sentire una persona che merita di fiducia e anche perché non ho un amico io li tratto come amici ed è già capitato che con alcune persone magari c'è stato anche una bevuta addirittura o perché no gli ho fatto un regalo io a loro quindi per me non c'è nessun problema ci sono poi tipi di collaborazioni che sei te che chiedi o loro che si propongono vi faccio l'esempio quando io nel 90% dei casi sono sempre io che vado dall'editore a chiedere il gioco e l'editore mi dice sì no oppure vedremo quello non c'è problema comunque sono io tante altre persone invece vengono contattati dagli editori e magari l'editore propone dei soldi o loro stessi quando vengono contattati i recensori chiedono soldi che non c'è niente di male ragazzi perché ci sono canali che lo fanno in maniera professionale dieci volte meglio di me e quindi magari dicono per il lavoro che faccio te che ti sei proposto per rimanere imparziale do al voto quello che mi sento di dire e tutto quanto però ti chiedo tot soldi e va benissimo io uno non li chiedo perché giustamente so io che vado a chiedere come di oh mi mandi una copia di boh non lo so Massive Dark se oggi ciò mettevelo lì e beh sì però ti ci faccio il video e la copia che mi mandi voglio 200 euro non me lo sognerei mai né in cielo né in terra ma ancora di più quando sono gli editori e mi è già successo due volte quando sono gli editori che contattano me per pubblicizzare i loro giochi che sono stati la Tambù con il gioco Sticky World mi hanno contattato loro bellissimo e poi sono stati la Monolith che mi hanno mandato Claustrofobia e Batman loro mi hanno contattato loro sulla pagina Facebook devo chiedergli soldi? cioè mi hanno mandato Batman 140 euro di roba Claustrofobia 120 Sticky World tra l'altro che deve ancora uscire in versione prototipo Kickstarter con le miniature devo anche chiedergli dei soldi io bruci bruci tra le fiamme dell'inferno quel giorno che un editore mi contatterà per fare una recensione e io chiederò dei soldi ovvio nessuno campa d'aria se dovesse arrivare un editore che mi dicesse guarda Coridan vuoi fare un video sul mio gioco? insieme al video del mio gioco se vuoi per supportarti per il canale ti do anche un pagamento sicuramente magari ci si mette lì se ne parla e tutto quanto se posso lo faccio anche risparmiare è normale che li prenda soldi io non sono ricco né niente sono anche disoccupato quindi voglio dire è normale che o come domani mi contatta un editore e mi dice te da oggi lavori per me fa le recensioni a pagamento secondo voi le dico di no è normale che le dico di sì però finché sono io a proporre a propormi mi faccio mandare un gioco o loro me lo mandano io non chiedo un euro non ne chiedo uno e quel giorno che chiederò un euro per fare una recensione di un gioco di qualche editore con cui collaboro e mi do uno schiaffo da solo e questa era la parte dei ringraziamenti quindi concludo dicendo che se devo ringraziare un editore per la roba che mi manda io a quell'editore d'ora in avanti di video le faccio anche il linkino vestito da samurai perché è quello che si meritano e io le ringrazio per come si meritano punto e basta e non tocco più l'argomento il secondo argomento che mi preme trattare sono quei commenti flame troll velati da commento costruttivo nel senso ve l'ho detto c'è un commento costruttivo che ti posso dire a me mi piace da morire come fai video smetti di far tremare quella telecamera piglia uno stabilizzatore perché così mi fai vomitare e poi non te le guardo più che è già un commento costruttivo e un commento invece distruttivo che è io ti seguo sempre però le riprese le fai da cane si vede che non ne capisci un cavolo di quello dell'argomento che vai a trattare cambia telecamera però continua a seguirti cioè mi hai detto io ti seguo fai schifo ammazzati da tifo però continua a seguirti cioè non funziona così ci sono modi e modi di commentare quando il commento è costruttivo io anzi a quel ragazzo che mi ha fatto il commento semmai un giorno avrò la possibilità gli offro anche una birra perché mi ha fatto perfezionare mi ha dato un insegnamento che non si smette mai di imparare e questi commenti ricevuti sia su facebook che qui su youtube su instagram e tutto tante volte sono commenti di gente che c'ha o la puzza sotto il naso o di gente che rosica o di gente che magari gli dai fastidio con quello che fai tipo qualche commento me ne viene uno dei più famosi che mi sono iconici mi sono rimasti in testa quello che disse è però dovresti fare riprese più professionali con attrezzatura più professionale con luci migliori soprattutto quando spieghi le regole le dovresti spiegare in una certa maniera e non come se tu le spiegassi al tavolino perché non siamo al tavolino con te non è il modo di spiegare le cose luci professionali c'ho quelle che c'ho anche perché siamo in un soppalco senza illuminazione ragazzi c'ho una casa di 50 metri quadri al secondo piano con le finestre su un lato e nessuna finestra sul soppalco se questa persona che mi ha criticato mi regala uno studio io vado a fare video in quello studio all'inizio si fa con quello che ho faccio con quello che c'ho sono praticamente in un piccolo soppalco sgabuzzino e faccio con quello che ho per quanto riguarda le inquadrature magari che possono piacere o non piacere anche lì si registra con un Honor 9 insomma c'è una telecamera 4K non è che sia una cavolatina è buona però sì sicuramente ci potrebbe essere di meglio ma per ora c'ho questo e non mi posso permettere altro e per quanto invece riguarda il fatto di spiegare le regole in una certa maniera che non vanno bene per un video ognuno ha la sua maniera io magari anche se provo è come il chitarrista che è un jazzista bravissimo e ne ho conosciuti tanti che li facevano per una vita suonare magari metal, rock e cose del genere a lui non gli piaceva quel genere però era forzato perché doveva suonarli per soldi nei locali col gruppo però non dava il massimo non ce la faceva e anche se si impegnava non ci arrivava perché? perché era un argomento che o proprio non ci riusciva o perché non era nelle sue corde proprio per usare un termine giusto e io sono uguale io a me piace farle in questa maniera a me mi può mettere giacca e cravatta a lavorare le poste ci sto una settimana dopo una settimana mi lavo la cravatta e mi sciolgo capelli io non ci posso sta ognuno ha il suo modo di fare le cose deve essere così però tante volte dicono sarebbe meglio non farle così commento costruttivo e uno dice va bene tua idea personale vediamo un po' di trovarci in un punto in comune se A non ti va bene e C non ti va bene troviamoci su B che è comunque una sfumatura legittima ma il discorso tante volte è che gente proprio si impone magari vecchie autorità dell'epoca o cose del genere che sono qui da vent'anni si impongono e ti dicono magari non va bene farli così perché quello lo fa così quello lo fa così e noi li facciamo così no? punto e basta ora io non voglio criticare nessuno perché poi ognuno a casa sua lavora come gli pare ma io non guardo in faccia a nessuno a nessuno perché io guardo in faccia solo all'editore e se sbaglio qualcosa deve essere l'editore a dirmelo se l'associazione XYZ viene e mi dice questo video non va bene come lo fai a me non me ne frega niente e passo oltre quello dopo lo rifaccio uguale a quello di prima se l'editore giustamente che mi manda al gioco fa io corredante le mando i giochi però mi galberebbe un video un pochino più così così e cosà io dal video dopo faccio come lo dice l'editore perché io rispondo soltanto all'editore giustamente devo pubblicizzare un loro prodotto se di tutti gli editori che ho oggi italiani e stranieri li va bene come lavoro ma chi siete voi per dirmi qualcosa correggo per impormi qualcosa perché dire mi potete anche dire Coridan oggi sei pettinato sei brutto da morire e io ci faccio una risata va bene è il tuo commento però impormi no avete sbagliato candeggina per valutare questa tesi con mia moglie e Pippo il mio collaboratore siamo andati quest'anno a Luca Comics e mi ha fatto un po' ridere la situazione ride ovviamente in senso positivo questa ecco non è una critica velata una trollata velata perché siamo andati dagli editori tutti quelli con cui collaboro ovviamente italiani siamo andati anche da uno straniero però vabbè nel senso per la maggior parte erano italiani e tutti gli editori siamo andati lì alle bancarelle e si diceva c'è mica il PR o la PR si è la Giunfonda e lì e lì il 50% esatto dei PR degli editori quando mi hanno visto arrivare mi hanno abbracciato oppure mi hanno fatto una risata o mi hanno guardato mi dì ma che cazzo ci fai te qui cioè questo cosa denota che difficilmente gli editori si vedano arrivare un recensore o comunque una persona con cui collaborano che li va a salutare a dar vivo cioè non è una cosa di tutti i giorni e l'ho fatto molto volentieri anche uno per farmi vedere perché mi hanno mandato milioni di giochi da tavolo quindi mi sono fatto vedere e poi anche per andare a conoscere di persone a me è sembrato un bel gesto no? una cosa o un'altra andare a stringere la mano magari a qualche PR andargli a dare un abbraccio grande se è il numero uno grazie per il gioco e proprio li vedevo che erano imbarazzati ma imbarazzati positivamente come dire ci ha fatto piacere in senso qualcuno me l'ha anche detto quindi che ve l'ho detto per me con gli editori che mi mandano un gioco ogni tanto e poi non si fanno più sentire un discorso ma invece con gli editori con cui collaboro regolarmente che mi segue insomma da due anni che ho cambiato argomento sul canale lo sa io li tratto come amici perché c'è chi fa il suo lavoro e chi lo fa bene vi ripeto non ce la faccio a farmi arrivare dall'America o comunque anche dall'Italia un gioco cioè guardate qui dietro e lo sapete che tutti questi qua in Italia sono portati da Asmode ma per fare un nome a caso lo sapete tutti quanti li Zombicide e per ora ce l'ho tutti e qualche volta anche le espansioni grazie Asmode di avermi mandato Zombicide siete i numeri uno io non ce la faccio cioè mi hanno mandato roba qui dietro che se avesse dovuto comprarmi la di tasca mia buona Ugo perché sono soldi anche se l'editore non costa nulla e ce lo mandano per fare le recensioni l'editore t'ha fatto si è affidato di te ha dato la sua fiducia quindi io quando faccio il video in cui 30 si è onde mi comporto come mi pare e li ringrazio per come si meritano ora non è perché li ringrazio a questa maniera che influisce sul mio voto finale del gioco e magari anche un gioco schifoso che non mi è garbato li do 9 su 10 oh grazie ai editori grazie no perché un venduto non sono e non sono tantomeno un leccaculo però come vi ho detto all'inizio io giochi li chiedo ci sono anche altri canali che invece li ricevono io li vado a chiedere poi è capitato qualche volta ve l'ho detto per ora è capitato soltanto due volte che si sono proposti loro che erano Tambù e la Monolith poi tutto il resto dei giochi li ho chiesti io sempre io e quindi quando vado a chiedere un gioco mi documento prima magari vado sul canale di qualcuno che tratta board game da prima di me che magari è bello informato vado a vedere ha già fatto la recensione mi potrebbe piacere oppure vado anche su siti più famosi di recensioni italiane o straniere oppure anche board game geek direttamente Tom Weasel vado a vedere se il gioco te lo chiedo come faccio a chiederti un gioco che ho visto che mi può garbada morì come regola e tutto un Dungeon Saga faccio arriva a casa Dungeon Saga faccio la recensione su Dungeon Saga boia non era come me lo aspettavo fa cagare ce li do 5 di voto cioè l'ho chiesto io e poi le do 5 ed è quello il discorso lì capito quindi anche il fatto di dare voti mediamente alti comunque mai sotto il 6 difficilmente l'ho dato sempre 7 perlomeno 6 e mezzo 7 perché sapevo già dove andare a picchiare è come quando compri un videogioco o richiedi un videogioco cioè se ti vai a comprare l'ultimo non lo so Rainbow Six uscito qua come sono vecchio Rainbow Six ce ne sarebbero molti più di giochi però tu l'ultimo Rainbow Six cerchi di vedere qualche recensione se ti garbo lo compri e poi dopo due giorni lo rivendi a me calacenti mi fa ridere provato non mi è piaciuto l'ho rivenduto ma cosa l'avevo prato a fa ora un conto se lo ricevi come regalo comunque in conclusione ogni canale ha le sue regole ogni canale ha il suo modus operandi io non sono cioè sono arrivato in questo ambiente da ora però è una vita io ho 40 anni ora frappolino fra due anni è una vita che faccio giochi da tavolo e come detto tante volte già all'inizio avrei voluto fare un canale di giochi da tavolo da quando all'inizio la vecchia stereo mi mandò la copia di Assalto Imperiale già da lì che era roba di boni boni quattro anni fa se non di più io già da lì volevo che quindi era all'inizio del mio canale youtube volevo portare board game però non c'avevo lo spazio lo spazio l'ho trovato in questo piccolo sopparco in casa quando poi appunto con mia moglie l'abbiamo messa a posto quindi io già dall'inizio del canale volevo trattare board game poi non avendoci spazio neanche potevo fare gameplay sul letto mi sono messo a trattare videogiochi in conclusione quando e anche perché eri da solo e anche soprattutto perché ero da solo quando per fare appunto una conclusione di due punti uno per il fatto che ringrazio sono così punto e basta c'è da di nient'altro sull'altro punto quello dei commenti velati e tutto io vi do un consiglio perlomeno è un consiglio che do anche a me stesso qualcosa che faccio da una vita quando vuoi mandare a fare in culo qualcuno o vuoi criticare qualcuno fallo direttamente e te ne assumi da uomo le tue responsabilità se devi fare una critica a uno e digli fai schifo non gli dire ma qui è un po' sbagliato qui è un po' sbagliato qui non ci sa fa qui non lo sai di qui non lo sai muove digli che fa schifo perché magari anche lui che fa schifo lo accetta ci rimane male lì per lì magari ti banna ti manda a quel paese però poi dopo in separata sede ci riflette un fate gli amiconi farsi che non siete se poi magari siete troll siete flamer siete hater e quindi siete persone che del canale non ve ne frega nulla e se il canale domani scompare anzi fate il festino quindi quando dovete fare un commento costruttivo che sia costruttivo quando dovete fare un commento distruttivo a pollici in giù ve ne assumete responsabilità corda non fai schifo cambia perché non lo sai fare e è già più puro nel senso come commento e perlomeno non ci si sta nemmeno tanto a discute comunque gente io volevo dire la mia ovviamente commenti liberissimi commenti distruttivi cancellati e la persona bloccata ma perché non li voglio c'è uno che mi arriva a dar nulla e mi dice speriamo tu moia non serve a niente commentare così il video quindi commenti positivi costruttivi quello che mi pare e ovviamente come sempre cercherò di anzi no come sempre come ho sempre fatto vedo di rispondere direttamente a tutti ciao ragazzi alla prossima ciao ciao